Andrea Romano qui sul territorio al mercatino del venerdì, hai fatto un giro fra le persone come hanno risposto? Bene, nel senso che c'è grande interesse nonostante quello che si dice per le politiche, anche se mancano ancora 22 giorni, vogliono sapere, fanno domande, vogliono sapere quali sono le proposte del PD e noi tra le tante cose ci concentriamo soprattutto oggi sulla lotta al caro energia con le proposte del PD e con le proposte per il lavoro ai giovani che sono due grandi temi che giustamente preoccupano le famiglie. Stiamo rispondendo, stiamo andando in giro, siamo in tanti del PD ed è una delle giornate clou della nostra campagna elettorale che durerà 20 giorni, ricordiamolo.